benvenuti su meteo giulianci il tempo previsto per domenica 11 novembre è la giornata di san martino e guarda caso questa volta la tradizione che vuole che sia una giornata quasi estiva quasi quasi cea azzeccato ma innanzitutto sarà una giornata da ricordare non solo perché l'estate di san martino perché sarà l'ultimo giorno dopo 15 giorni di pioggia l'ultimo giorno con ancora delle piogge residue perché poi da lunedì e per molto tempo le piogge non le vedremo più merito di chi questa volta diamo il merito all'anticicolone nordafricano il quale porterà bel tempo ma ovviamente non porterà caldo però porterà delle nebbie nebbie diffuse solo soprattutto sull'est della lombardia sul basso veneto sull'emilia sulla romagna sull'interno della toscana e sull'umbria occidentale le temperature saranno ancora 4 5 gradi al di sopra della media con massime intorno 15 19 gradi e minime ancora maggiore di 10 gradi termino qui un carasulto ancora da mario giuliacci